Quando sono lasciato a Serbia, ex Jugoslavia, avevo una vita ancora, dai non è male, non avevo futuro in senso lavoro o qualche cosa, ma avevo una vita abbastanza tranquilla, ma dopo è tutto cambiato durante la guerra e io sono riuscito ad andare prima, dopo 85, la guerra è cominciata al 90, 91, 6 anni prima, non so perché sapevo che veniva la guerra, io volevo entrare e vedere un po' di Europa, ovvio Londra era centro dove volevano tutti, come oggi, non è cambiato tanto, so io in quello mondo sono cambiato la vita, è cominciato da vivere una vita cosmopolitana in senso per 20 anni a Londra e dopo in Europa sono venuto qui, è ovvio, sono rimasto là sicuramente ho finito in guerra, cosa capita non lo so, cosa capitava, non sono tutti morti che sono entrati nella guerra, ma è diverso totalmente, e sono contento, infatti ha dato così, perché non so chi piace in guerra, quella, quella cosa, sì, adesso io ancora, mi piace perché sono qui ancora, io non batto quelli problemi, non è, no, ancora si sento forte, dentro